In ottemperanza una delibera di consiglio comunale di due anni fa nella quale appunto si parlava di ottimizzare sul territorio gli orari di ingresso e di uscita dal cuore della città legata appunto al traffico che così può essere evitato. Oggi si presentano i nuovi orari per le scuole cavesi. Ne parliamo con l'assessore alla mobilità e alla sicurezza del comune di Cava dei Tirreni, il professore Enzo Passa. Sì, ha detto bene. Il sindaco ha provveduto dopo ovviamente l'intesa che si è avuta in consiglio comunale ad emettere un'ordinanza per la ottimizzazione degli orari per quanto riguarda gli ingressi e le uscite delle scuole di Cava dei Tirreni. Partiamo già da, stiamo partendo in questo momento con le scuole, poi ovviamente dobbiamo investire un po' tutti gli uffici pubblici che esistono sul territorio di Cava dei Tirreni. Ieri l'ordinanza è stata notificata ai vari istituti scolastici della città di Cava dei Tirreni. Ovviamente tutto questo è scatturito in seguito a delle riunioni che si sono tenute nel tempo con l'orario. È chiaro che far coincidere un po' tutti gli orari è stata un'impresa poco difficile. Qualche di uno applicherà una flessibilità, però siamo nel rispetto degli orari che l'ordinanza del sindaco ha emesso. Ovviamente anche questo in funzione di questa nuova viabilità che ha investito il centro cittadino, in particolare con l'apertura in superficie in questo momento del crincerone ferroviario. Certamente io sono convinto di una cosa, sono uno di quelli che la strada urbana, quella per intercela ex stradale 18, la frequento per lo meno 7, 8, 10 volte al giorno. E devo dire la verità, non perché sono di parte, ma lo dicono pure gli altri. Io prima, arrivato alla via 25 Luglio, alla testa dell'incrocio per Pregiato, ero condizionato e costretto a deviare a sinistra perché c'è il traffico da lì fino alla stazione e oltre. Invece io il traffico non lo trovo più. È un dato di fatto. È chiaro che la prova del fuoco la vedremo il 15 quando inizieranno le scuole, ma tutte le città si intasano quando inizieranno le scuole. Sindaco, nell'ottica di una razionalizzazione sul territorio, degli orari di accesso alle zone calde, in questo caso nasce questa ordinanza con la quale tutte le scuole di Cava devono sottostare un orario particolare per l'ingresso e l'uscita degli studenti. Diciamo che questa ultima ordinanza che definisce gli orari di ingresso e di uscita delle scuole capesi si inserisce in un processo che la nostra amministrazione è iniziato da un paio d'anni, che è quello della definizione dei tempi della città. È una delle competenze del Consiglio Comunale e del Sindaco. Il Consiglio Comunale detta degli indirizzi e quindi c'è stata una delibera di consiglio nel 2012, il Sindaco fa delle ordinanze specifiche. In questo caso l'ordinanza ha riguardato appunto il mondo delle scuole e si è fatto in modo di prevedere che le scuole insistenti sulle stesse macro aree avessero gli orari di ingresso e di uscita sfasati di un quarto d'ora, quindi 8, 8 e un quarto, 8 e 30, in modo da evitare che i genitori che accompagnano i ragazzi a scuola si trovino tutti contemporaneamente nell'ambito della stessa macro area. Siamo persuasi che questo provvedimento migliorerà notevolmente la viabilità cittadina, quindi nella fascia oraria dalle 8 alle 8 e 30, nella fascia oraria diciamo dall'1 a 1 e 30 più o meno di uscita dalle scuole, migliorando ovviamente anche la qualità della vita. Sono, come dire, provvedimenti che possono sembrare bagatellari, ma che invece producono sicuramente degli effetti positivi sulla viabilità e quindi insomma sul benessere della cittadinanza. Si stanno valutando anche altre iniziative per migliorare la viabilità cittadina, per esempio è in trattativa con i sindacati la migliore definizione dell'orario di ingresso e di uscita dei dipendenti comunali dagli uffici, tenete conto che sono circa 370 persone, quindi anche loro muovendosi con le macchine possono incidere sul traffico e c'è anche una valutazione rispetto agli altri uffici, all'ASL, eccetera. Ovviamente è un percorso che presuppone la possibilità di incontrarsi con le categorie, di definire insieme, come abbiamo fatto per esempio con i dirigenti scolastici, con il nostro assessore alla mobilità, l'assessore Passa e con l'assessore Clea Ferrara, appunto la pubblica istruzione. Quindi c'è tutto un lavoro dietro che però oggi con soddisfazione annunciamo. Credo che siamo fra le pochissime città in Italia che hanno dato attuazione a questa norma del testo unico ai enti locali, per cui amministrare non vuol dire solo fare opere pubbliche e noi credo che da questo punto di vista siamo abbastanza all'avanguardia per i lavori che si stanno facendo e che sono già stati realizzati, ma vuol dire anche attenzione ai piccoli aspetti della vita della comunità e questo è un esempio.